Noi è un po' di tempo che stiamo dicendo questo e che abbiamo fatto tutta una serie di proposte, alcune delle quali erano già state accolte dal Presidente Draghi ed era uno anche dei motivi per cui sconsigliavamo alle altre forze di maggioranza di mettere in difficoltà o rischio il Governo. Adesso io noto anche una certa ipocrisia da parte di chi sta chiedendo a Draghi tutta una serie di azioni ora che loro stessi hanno deciso di far morire questo Governo e di non sostenerlo, quando invece noi anche a luglio, anche in quelle giornate concitate, segnalavamo la necessità di avere un Governo nel pieno esercizio delle proprie funzioni proprio per affrontare quei problemi che già c'erano e che dicevamo si sarebbero solo acuiti anche con l'arrivo dell'autunno. Quindi queste cose erano frutto anche di ragionamenti parlamentari che si facevano ma che sono stati completamente inascoltati perché sapevamo dell'aumento delle bollette, non aumentano solo ora, ci sono stati aumenti già a partire dallo scorso agosto, stiamo parlando quasi di un anno fa, tendenzialmente un aumento costante rispetto al quale il Governo è intervenuto più volte. Prima lo ricordavate nel vostro servizio, quasi 50 miliardi sono stati gli interventi che questo Governo ha fatto a favore proprio per provare a trovare delle soluzioni che fossero però tampone mentre stava lavorando con forza, perché questo lo dobbiamo dire il Presidente Draghi, per riuscire a portare tutti i Paesi europei sulla linea di mettere un tetto al prezzo del gas. Una misura difficile, ma l'Italia è stato il primo Paese a crederci a lanciarlo in Europa con quel tipo di autorevolezza. Forse oggi si apre qualche spiraglio, ci sembra di capire che la Germania è più possibilista o forse anche più decisa nell'agire in questa direzione. L'Italia però è un po' azzoppata ed è azzoppata perché forze come la Lega, come il Movimento 5 Stelle, come Forza Italia hanno deciso di far cadere questo Governo. Qualcuno non ha mai creduto in quel Governo come Giorgia Meloni. Dire che adesso vuole l'unità per risolvere i problemi quando ha evitato in tutti questi mesi di così rimboccarsi le maniche e mettere le mani dove c'era il lavoro difficile da fare. Raccogliendo l'appello all'unità che è stato prima di Calenda e poi di Salvini. Vado proprio da Massimiliano Romeo.